La scuola è la scuola No, no, non ti preoccupare. Come metti se no ti sia messo più su? Eh perché... Sì, perché se no si impallava un po' la vista. Mario, se lo rischiavamo... Io filmavo lui, lui filmava. Eh, esatto. Femmiamo le curve. Poi le facciamo andare, poi le danasse. Se no, lui filmava me, fermavo lui. Vale, vale! Te l'ho detto che la tieno. Ciao ragazzi! Dai Daniel! Quale dici? Ah non gioco, non gioco. Le spalle Fabio! E Carlone! Dai secco! Ciao Carlone! Ciao! Ciao Carlo! Ciao Carlo! Sto parlando con Mario... Una partita così avrei messo il difensore. Avrei messo dentro l'attenzione. Vieni qua. No, 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 no. Non ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Laura! Stai spettando la stagione per te. Dio, poi mi metto, non ci stai a dare un po' là. Sta proprio la fai! Non ci stai a dare! Non ci stai a dare! Non ci stai a dare! Vieni qua! E' la carta del rimuasco! Bravo! Bravo! Sì, bravo, bravo Pippo! Sì, bravo, 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 dai, dai! Via via, attenzione, siamo solo all'inizio, dai ragazzi, su! Via via, va bene, va bene, va bene! Via via, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Via via, via via via, va bene, va bene, va bene, va bene! Sì, Telesi! Sìììììììììììììììììììììììììì Il rigore suonente. Il pallo c'era.. ..ma non lei a.. Babba nel senso che io... Pensa te.. Ahi.. Sei dove, sennò ventidue. Vent.. Ventun minuti a me! E' dato.. 27.. Brava.. 27. Due, due.. Sto batto a 25 qua, dai! Su ragazzi, su! No, ma è basta! Dai! Su ragazzi, su! Carro, 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 carro! Dai ragazzi, coraggio! Bravo, bravo! Bravi ragazzi! Dai, tracca! Ancora! Uno, due, tra! Arriva! Bravissima! Bravo! Bravo! Bravo, Ciccio! Bravo! No! Dai Daniel! Sono qui! Va bene, giusto amico! Vicini! Vicini, vicini! Abbordiamo! Oh! Bravo! Bravo! Dai! Dai! Cazzo! No! No! È giusto! Come arriva? Come arriva? Bravo! Dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, Fabio! Dai, cazzo! Oh! 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 Vai qua! Vai qua! Vai! Vai! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Dai, un bel mischio, poi! bravo bravissimo no però sarebbe stato giallo questo non c'è oh ci arrivava non c'è non c'è C'è un po', dai! Certo, Fede, è il giorno appena segniamo questi cambiamenti. Grande gol! Grande, bravo! Che tartelli? Non l'ho visto da qua. Ho visto il gol ma non l'ho visto che ho segnato. Non è che tutti biappi. Bello! Non c'è ancora fatto. Fino qui. Non è che non è ancora fatto. Fino qui. Bello! Nooo! Lui è in difesa, non ha il suo ruolo a segnare. Sono una buona squadra. La mani, cazzo, dai! Sono un maccarone! Sono un maccarone! Perché? Perché soffriamo sempre. Perché non va bene questo mangi? Bravo! Sì! Ma nooo! Hai visto un'ombra? Quattro! Tre minuti di recupero li deve dare senza sé. Quattro minuti! Quattro minuti mancheranno. Quattro minuti con il recupero, non ti riesco. Ah, ok, bene. Corro a gioco! Dai! Dai! Vedi 10 minuti! UTA VU! UTA VU! UTA VU! UTA VU! UTA VU! Sai, dai! UTA VUHar di recover! UTA VU! Grazie.